Ciao a tutti ragazze e ragazzi, anche oggi ho deciso di deliziare con una nuova ricetta. Tra un istante andrò a preparare un golosissimo dessert e precisamente il cheesecake al Mars è una vera goduria per il palato, è un dolce paradisiaco, naturalmente è un po' ipercalorico. Ora vediamo gli ingredienti che occorreranno e noi ci vediamo presto, un bacione, ciao! Gli ingredienti che andrò a utilizzare per questa ricetta sono Per la base andrò a utilizzare 250 g di biscotti digestive e 80 g di burro morbido. Per la farcia andrò a utilizzare 300 g di Philadelphia, 300 ml di yogurt greco, 250 ml di panna montata, 80 g di zucchero a velo, 8 g di colla di pesce, 3 mals e 20 g di miele. Per la glass andrò a utilizzare 50 g di granella di nocciole, 20 g di burro, 3-4 cucchiai di latte, 2 cucchiai di zucchero di canna, 1 mals. Vediamo un attimo come procedere. Il primo passaggio da fare sarà quello di tritare i biscotti. Ho inserito i biscotti in una ciotola, aggiungo il burro fuso e mescolo bene il tutto. Verso il composto ottenuto in una cianiera apribile. Con il dozzo del cucchiaio compatto il tutto. E metto in frigo per 30 minuti. Nel frattempo preparo la farcia. Innanzitutto metto in una ciotolina che contiene acqua fresca la colla di pesce e la lasci in ammollo per circa 5 minuti. Sono trascorsi 5 minuti. Strizzo la colla di pesce e la vado ad inserire nel pentolino. All'interno del pentolino vado ad inserire anche il latte. Metto il pentolino sul fuoco e faccio sciogliere il tutto dolciamente. Verso in una ciotola l'aloe yogurt greco. Aggiungo la filadelfia. Lo zucchero a velo. E aggiungo per ultimo la colla di pesce che ho fatto precedentemente sciogliere. E mescolo il tutto molto bene. Aggiungo per ultimo la panna montata. E la andrò ad incorporare delicatamente. Verso metà della faccia ottenuta sulla base di biscotti. e li velo con il dolso del cucchiaio. Spezzetto in piccoli pezzi mass e li dispongo sulla faccia. Ricopro con la restante faccia. Con il dolso del cucchiaio li velo in modo uniforme. Faccio riposare in frigo la cheesecake per 30 minuti. E nel frattempo preparo la glassa. In un pentolino faccio sciogliere il marzo con lo zucchero di canna. E aggiungo anche il miele e il burro. Ho tolto la cheesecake dal frigo. E verso sulla superficie in modo non uniforme la glassa. Per dare un tocco in più ricopro il tutto con la granella di nocciola. Metto nuovamente la cheesecake in frigo per almeno 3 ore. Sono trascorse le 3 ore. Ho rimosso la cerniera ed ecco qua la cheesecake al marzo. Pronta per essere degustata. Vi assicuro che è una vera goduria. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Un bacione e alla prossima! Grazie a tutti!